Paolo è tutto impegnato a cucinare, il bebè scalcia e Clizia ha le contrazioni e non sa se arriverà a fine serata. Non riesco neanche a piovere l'acqua, la battita, forza, ma intanto guardavo le foto di, diciamo, da piccolino, e cucciolo, insomma, guardate che bello. Clizia è veramente piena, è arrivata al nonno mese e speriamo che finisca presto, che nasca prestissimo questo bebè. Grazie a tutti.